Calano i contagi da Covid in Irpini, a Marisale, l'allerta in numerosi comuni, 1886, le dosi di vaccino somministrate e da oggi hub aperti anche di mattina ad Avellino e ad Ariano, ma non basta. Dopo il caso di Atripalda, anche il sindaco di Monteforte, Costantino Giordano, scrive al manager dell'ASL per chiedere la riapertura dell'hub in paese. Dalla mattina alla sera non nascondo che ricevo tantissime telefonate. Io li tranquillizzo, ma alla fine hanno ragione. Io spero che al più presto si attivino per riaprirli tutti, perché i contagi aumentano e le persone hanno bisogno di vaccinarsi. Ma non solo. In Alta Irpinia, il sindaco di Montella, Rizieri Buonapane, chiede anche screening e controlli, annunciando altri contagi che saranno rendicontati nel prossimo bollettino medico. Tamponi per tutti e subito, questa la richiesta del primo cittadino al Tirpino, Rizieri Buonapane. Altri sette i positivi in paese. Ho chiesto all'ASL, spiega Buonapane, di ripristinare in maniera stabile il drive-in nel parcheggio di San Francesco a Folloni. Sono eccessivi i disagi che le famiglie stanno vivendo per recarsi al drive-in di Avellino. Ma soprattutto ho chiesto di fissare più giorni di apertura del nostro centro vaccinale, al fine di evitare gli inconvenienti registrati nei giorni scorsi. Intanto a livello provinciale, su 628 tamponi processati, sono 29 le nuove persone positive al virus. Due ad Altavilla, una da Tripalda, sei ad Avella, quattro ad Avellino, due a Friggento, tre a Grotta Minarda, cinque a Monteforte, tre a San Potito, una a Solofra e una a Sperone.